Superare l'ostacolo della pagina bianca, un'esperienza. Sono Maria Rosa Tabellini e insieme ad Alessandro Fo sono autrice dell'antologia Lo sguardo di chi legge, un libro nato dalla passione per la parola, la parola letteraria e poetica, la parola quindi che scopre, emoziona, illumina e anche l'esperienza che ci vede coinvolti in questo appuntamento grazie al medium di internet è affidata alle parole, quelle scritte che vedrete sullo schermo, quelle della mia voce fuoricampo che le accompagna. Preferisco infatti evitare lo sguardo inevitabilmente asimmetrico di una lezione online che per quanto realistica non è mai reale e invece in questo frangente cui siamo tutti in clausura, ognuno dentro la propria stanza, la voce è lo strumento che per tradizione può venire da lontano e mi affido quindi alla voce, alle immagini, ai testi che scorreranno sui vostri schermi a distanza. Il titolo è appunto Superare l'ostacolo della pagina bianca, è un'esperienza che desidero condividere con voi, un'esperienza che ho fatto da lontano e che ho voluto rappresentare attraverso un'immagine assai familiare da tutti conosciuta che è questa di Snoopy che guarda perpless, pensieroso, la pagina bianca che è sulla sua macchina da scrivere. Il tempo sospeso. L'immagine che accompagna questa prima diapositiva è quella di un famoso quadro di Hopper, una ragazza assorta, quasi abbandonata, che non guarda da una finestra ma guarda una finestra, una parete al di là della quale vediamo altre pareti. Ecco, ognuno dentro le pareti della nostra stanza viviamo questo tempo sospeso. Per altri il tempo è invece frenetico, sono i medici, gli operatori sanitari, anche i casieri dei supermercati e così via. Invece per parte nostra sperimentiamo seppur alla lontana che cosa significa la parola detenzione ed è in questa situazione che la scrittura può rivelare la sua forza evocativa, diventare cioè l'opportunità per la riflessione e il gioco dell'immaginazione. Ma la scrittura è faticosa, le cose non sono così semplici e dirette come potrebbe sembrare. Di laboratori di scrittura se ne possono trovare in gran numero anche online, ma essi si rivolgono in genere ad aspiranti scrittori, ovvero a persone che sentono già dentro di sé il fuoco, si fa per dire, della scrittura. A questi vengono insegnate le tecniche, proposti dei modelli, è un po' quello che facciamo anche noi nel volumetto Il piacere di scrivere che è allegato all'antologia. Per parte mia vorrei invece concentrarmi su coloro per i quali la scrittura di primo acchito rappresenta un tormento, derivato nella gran maggioranza dei casi dal blocco che insorge davanti alla pagina bianca, sia essa un foglio di carta, un documento di Word. Un blocco che può arrivare persino ad impedire di scoprire le doti della scrittura, tanto più necessarie nel momento critico in cui ci troviamo. E la scrittura è veramente in una situazione che limita il movimento, riduce i contatti sociali, può essere davvero una risorsa preziosa e non un ripiego per superire all'azione, bensì una scoperta vera e propria. Tutti però sappiamo che è prima di tutto la lettura che fornisce ossigeno e nutrimento alla scrittura. Ed ecco quindi il senso di quest'altra immagine, sempre di un quadro di Hoppe, dove vediamo una donna che legge, anche qui all'interno di un ambiente chiuso, è uno scompartimento di un treno. Quindi un apprendistato in qualità di lettori è prerequisito indispensabile alla scrittura. Saranno infatti gli scrittori a farci da guida nel nostro itinerario. Da lettori a scrittori. Ho voluto rappresentare attraverso questa immagine di una bambina che certamente non sta creando un racconto, ma sta compitando, si sta sforzando su un foglio. È un dipinto su legno di Telemaco Signorini che rappresenta bene la dignità dello sforzo della scrittura, quella semplicità del vestito, il visochino. È un po' di buon augurio per quanto riguarda questa nostra esperienza. Veniamo quindi all'inizio, vero e proprio, del nostro itinerario. Superare il blocco della pagina bianca. Scrivere non è cosa facile. Il blocco davanti alla pagina lo conoscono anche gli scrittori, quelli di ieri e quelli di oggi. Ed ecco quindi in proposito la testimonianza di un grande scrittore morto poco tempo fa, un grande scrittore israeliano, Amos Hotz, che in una testimonianza lascia detto così. Dal canto mio provavo una certa invidia verso mio padre. Ogni volta che si sedeva per lavorare a un testo accademico, la scrivania era sempre in gombra di libri aperti, estratti, opere di consultazione, dizionari. Diversamente da quanto succede a me, non si ritrovava mai a fissare un unico foglio bianco e beffardo, piazzato al centro di un arido piano di lavoro come un cratere sulla superficie lunare. Soltanto il vuoto, la disperazione e tu, il dover ricavare qualcosa dal nulla. Un viaggio avventuroso in mare aperto in barca a vela. Abbiamo scritto nella premessa al volumetto Il piacere di scrivere questa similitudine. La scrittura è un viaggio avventuroso in mare aperto in barca a vela. Ecco, anche un viaggio aperto in barca a vela, anche una missione di un razzo che parte per la luna, parte però sempre da terra. Ecco, l'esperienza che desidero condividere con voi è proprio quella assai più modesta di partire da alcuni dati di fatto, da oggetti, nel nostro caso da una fotografia, per costruire un testo scritto. E siamo quindi al primo grado. Costruire un dialogo partendo da una fotografia. Il fotogramma che vedete qui, infatti è un fotogramma trasformato in una fotografia, è tratto da una famosa sitcom britannica che la Wright ha trasmise poi negli anni 70-80. Il titolo era George e Mildred. L'esclamazione O George è quella che la doppiatrice italiana, una splendida Miserocchi, metteva in bocca a Mildred per rappresentare, per esprimere con una sorta di red motive, il suo disappunto nei confronti del marito George. Qui li vediamo appunto in un fotogramma famoso, lui e lei separati o uniti, a seconda di come si può interpretare questa fotografia, da Seidecker. George, infatti, è un marito indolente, perennemente disoccupato, amante anche dell'alcol, però equipaggiato con una straordinaria motocarrozzella, una motocicletta con Seidecker foderata di pelle finta, rossa. Lei è una donna ambiziosetta, vorrebbe apparire di un grado sociale maggiore rispetto a quello a cui effettivamente appartiene. Lo si vede nell'abbigliamento, lo si vede nell'uso di gioielli falsi, ovviamente, ma vistosi, come queste che le pendono qui dall'orecchio. Le vediamo qui in un atteggiamento di disaccordo, ed è, a mio parere, un ottimo spunto per inventare un dialogo. Una volta individuato l'argomento, potrebbe essere un ritardo dell'uno dell'altro, l'abbigliamento di lui così poco consono a quello di lei, oppure una discussione su dove andare. Si tratta, a questo punto, di scrivere un dialogo vero e proprio. Scrivere un dialogo efficace non è cosa semplice. Lo sanno bene gli scrittori, che sulle sequenze dialogate si soffermano a lungo. I batti vecchi, i bisticci, le disavventure continue per l'appunto di questi personaggi erano esilaranti nella sitcom. Conviene quindi, a questo punto, guardare l'espressione del viso, gli atteggiamenti, la postura dei due personaggi, per immaginare quale può essere l'argomento, diciamo così, del contendere o della discussione. Abbiamo bisogno, però, anche di un testo letterario, che possa fare da modello o comunque da guida. Le battute, infatti, devono essere concepite in modo semplici, ma efficaci, non si deve mai cadere nella verbosità. Un modello d'autore lo troviamo in uno dei testi che sono inseriti nel volume di narrativa dello sguardo di chi legge. È una sequenza dialogata dall'ultimo circo di Ray Bradbury. La situazione è diversa rispetto a quella della fotografia. Ciò non di meno, il modello può essere utile. Nel testo di Bradbury ci sono due coniugi in cucina. Lei prepara le frittelle, lui legge il giornale, è allarmato per le notizie minacciose che vi trova e il narratore è il figlio o ragazzino che è già infervorato per l'imminente arrivo del circo in città. Come si vedrà nel testo, appena lo leggeremo, l'autore è particolarmente attento a riprodurre attraverso il dialogo la psicologia dei due, che qui è quasi rovesciata rispetto a quella di George Mildred, in realtà il carattere olimpico della madre che è assorbita dalle faccende domestiche e familiari e quello spigoloso del padre, preoccupato degli eventi mondiali e tuttavia solidamente conformista, come testimonia la banalità delle esclamazioni. Leggiamo quindi. Mentre masticavo, mio padre pareggiò i fogli del giornale e sospirò. Non so dove andremo a finire. Non dovresti leggere il giornale appena alzato, commentò mamma, ti rovina la digestione. Guarda qui, esclamò papà, facendo scorrere l'indice lungo le pagine, guerra batteriologica, bomba atomica, bomba, l'idrogeno, non leggi altro che questa roba. Personalmente, ribatte mamma, questa settimana è la mia più grande angoscia e l'enorme bucato che devo fare. Papà grottò la fronte. Sai cos'è il guaio di questo mondo? La gente come te, che sta a sedere su una bomba innescata mentre fa il bucato, si sporse in avanti. Stamattina ti dicono che dispongono di una nuova bomba atomica che eliminerebbe Chicago dalla carta geografica. Questa è la nostra città. Non ne resterebbe che una macchiolina. Più ci penso, più ti dico che è una maledetta vergogna. arriviamo a questo punto a un secondo passo. Costruire una breve sceneggiatura. sempre partendo dallo stesso fotogramma, il gradino può essere proprio quello di inventare una situazione più ampia. Una sceneggiatura è già una narrazione, quindi bisogna raccontare l'ambientazione, l'antefatto, quindi concentrarsi sul dialogo. Le battute sono determinanti per la riuscita del testo, ma accorre anche che siano inframmezzate da passaggi diegetici che rendano realistico il contesto e che soprattutto rendano conto esattamente del tempo che intanto trascorre. Infatti, a differenza del primo gradino che abbiamo già visto, che tende a riprodurre soltanto il dialogo, quasi si trattasse di battute, di un fumetto, la sceneggiatura è dinamica e implica un prima e un dopo. Sempre in riferimento quindi al brano che abbiamo appena letto, possiamo osservare lo stile di Bradbury le battute che si alternano a stacchi diegetici che corrispondono in qualche modo a delle didascalie teatrali e infatti la sceneggiatura è in qualche modo una scena teatrale e anche questo può essere proposto come esercizio, come spunto per il nostro scrittore neofica. Ho qui riportato quindi in rosso tre di questi passaggi diegetici, alcuni più lunghi, alcuni più brevi, che possono essere ripescati proprio dal testo che abbiamo letto nella diapositiva precedente. Le ho segnate in rosso. Mentre masticavo, mio padre pareggiò i fogli del giornale e sospirò. Poi c'è la battuta. Non so dove andremo a finire. Di sotto invece c'è prima la battuta. Non dovresti leggere il giornale appena alzato. Commentò mamma. Il termine commentò è molto più marcato come capite di un semplice disse o rispose. Di sotto guarda qui è la battuta e poi c'è questa frase esclamò papà facendo scorrere l'indice lungo le pagine che è proprio una sorta di didascalia teatrale. Quindi riprendendo anche il testo di prima nel brano e nella sua complessità si possono via via osservare appunto questi passaggi. E' effettivamente un esercizio molto prezioso perché induce proprio a riflettere sul testo letterario quindi ad assorbire quelle che sono le tecniche e in qualche modo anche ad adeguarsi a questa imitazione che all'inizio nulla ha di male anzi può essere estremamente utile. Vediamo un altro esempio di sequenza dialogata questo più complesso quindi più diciamo attraente da un punto di vista letterario per le implicazioni che esso contiene. E' una sequenza dialogata tratta dal racconto il cowboy della Walker Brother nel punto in cui si vede dell'incontro tra Ben commesso viaggiatore e padre della giovane narratrice e Nora una signora sconosciuta narratrice e al suo fratellino che per l'appunto in questa occasione stanno accompagnando in una macchina un po' scassata il proprio babbo via via nel suo viaggio di commercio di lavoro. Davanti alla casa una signora piccola e robusta sta ritirando il bucato che aveva steso sull'erba a sbiancare e asciugare. Quando l'auto si ferma la fissa un momento si china a raccogliere altri due asciugamani da aggiungere al fagotto sotto il braccio ci viene incontro e con una voce né cordiale né ostile fa avete perso la strada? Mio padre scende dall'auto senza fretta. Non direi risponde mi manda la walker blado. E George Goley il nostro rappresentante della walker dice lei ed è passato meno di due settimane fa. Oddio benedetto aggiunge con voce roca ma sei tu. E fino all'ultima volta che mi sono visto allo specchio sì dice mio padre. La donna raccoglie tutti gli asciugamani e si restringe addosso contro il petto come se avesse male ma pensa a chi mi tocca rivedere e te ne arrivi dicendo che ti manda la walker brother? Scusami magari speravi fosse George Goley ribatte avvidito mio padre e io ma guarda come come sono conciata stavo andando a pulire il pollaio ti sembrerà una scusa invece è vero non giro sempre in questo stato in testa ha un cappello di paglia che le lascia filtrare un po' di sole in faccia ai piedi scarpe da ginnastica e addosso un grembiule fantasia l'ercio e quelle in macchina che sono ben non saranno tuoi? ecco questo contesto effettivamente è assai diverso da quello del fotogramma che ci fa da spunto però è ovviamente un modello al quale ci si può ben affidare per rappresentare attraverso il dialogo anche non soltanto i gesti ma il tempo l'arco di tempo che intercorre tra le prime e le seconde e le ultime e le ultime battute meditare quindi in qualche modo su questi grandi modelli è la prima cosa da fare a mio parere e soltanto a questo punto arriviamo al terzo grado terzo passo che ho intitolato assaporare il gusto dell'immaginazione l'ho visualizzato attraverso un'altra immagine un quadro anch'esso famoso di Salvador Dalì che ritrae la propria sorella una diciassettenne affacciata a una finestra è in qualche modo collegato al quadro di Hopper dal quale siamo partiti ma lei ha anche il rovesciamento al contrario qui la ragazzina guarda dalla finestra e l'orizzonte è ampio sconfinato cioè il mare suggerisce quello che può essere davvero l'inizio di un viaggio per mare in barca a vela e quindi in questo terzo gradino proviamo ad escludere del tutto i nostri George e Mildred dall'orizzonte teniamo però la fotografia e immaginiamo cioè che la foto in questione sia una vecchia foto trovata in fondo a un cassetto a un baule o in un ripostiglio si tratta quindi in questo terzo passaggio di ricostruire l'occasione la storia di questa foto mettendola al centro di un racconto ovvero di farla diventare uno spunto narrativo autonomo può darsi anzi sarebbe auspicabile che arrivato a questo punto lo studente si sente già in grado di prendere il vento da solo per usare la solita metafora ma può anche darsi di no e comunque è sempre bene non dimenticare che uno scrittore è prima di tutto un lettore sicché forniamoli comunque un testo cui ancorarsi o da cui staccarsi consapevolmente l'antologia ne fornisce due esempi a mio parere eccellenti il primo una foto al centro di una storia primo esempio d'autore è l'incipit del racconto di Santi Pularà che si può leggere nel volumento Il piacere di scrivere è un racconto prezioso perché testimonia la validità del metodo che sto condividendo con voi essendo frutto reale di un laboratorio di scrittura vero e proprio anche se sui generis in cui gli allievi dovevano inventare una storia a partire da una fotografia che rappresentava una coppia su una moto con Seidekar vediamo che cosa scrisse Santi nei miei ricordi quella moto era sempre stata lì l'avevo vista abbandonata tra vecchi strumenti disusati e scarti lasciati dai contadini della contrada sullo spiazzo adiacente al magazzino degli agumi di mio nonno lei che a suo tempo si impose in quel mondo rurale e statico come quintessenza della meccanica ora languiva in agonia sotto l'inesorabile azione erosiva degli elementi già mai mi sarebbe venuta per la mente l'idea di connettere quel relitto con la storia della mia famiglia se un pomeriggio durante un raid esplorativo tra i recessi della casa dei nonni non avessi snidato nella mansarda una scatola della nostalgia nella quale erano riposti oggetti e fotografie del loro passato fu proprio una di quelle foto dove era ritratta una coppia elegantemente abbigliata in posa su un sidecar che sollecitò la mia curiosità che fare con questo incipit beh o prenderlo a modello e come si è detto già precedentemente farne in qualche modo una falsariga per scrivere alla maniera di e poi lasciarsi andare alla propria fantasia oppure anche tentare di continuare questo racconto che si può leggere poi interamente come vi dicevo nel volumetto il piacere di scrivere la stessa cosa si può fare con un altro esempio questo è l'incipit di un racconto di John Fante che è nel volume di narrativa dell'antologia il racconto si intitola rapimento in famiglia ed è giocato tutto quanto sul ritrovamento di una foto che il ragazzino anche qui è un ragazzino narratore ritrova in fondo a un baule c'era c'era un vecchio baule nella camera da letto di mamma era il più vecchio baule che avessi mai visto uno di quelli col coperchio arrotondato come la pancia di un ciccione ficcata dentro questo baule sotto la biancheria del corredo che non si usava mai appunto perché era il corredo sotto l'argenteria che non si usava mai perché era un regalo di nozze e sotto ogni sorta di nastri fantasia bottoni certificati di nascita sotto tutto questo c'era una scatola con le foto di famiglia mamma non permetteva a nessuno di aprire il baule e teneva nascosta la chiave ma un giorno io la trovai la trovai nascosta sotto lo zerbino e da qui parte poi tutta la rievocazione della storia della fotografia che il narratore ritrova che in questo caso rappresenta l'immagine della della sua mamma da giovane con un favoloso cappello bianco tanto diversa dalla mamma affaticata che lui vede tutti i giorni ecco quindi una volta assaporati questi spunti e creato quindi un racconto o in ogni caso anche soltanto il dialogo di partenza è necessario un ulteriore passaggio un quarto gradino la revisione è l'inizio del viaggio dello scrittore a questo punto che ha superato auspicabilmente il blocco della pagina bianca infatti stesura revisione riscrittura sono tre fasi ineludibili nella creazione di un testo narrativo ed è indispensabile che lo studente comprenda la necessità della revisione che a volte può davvero implicare una riscrittura completa o quasi non sta facendo un compito in classe in tre ore sta lavorando a un testo che richiede il tempo giusto misurabile soltanto da chi lo scrive tra l'invenzione e la revisione deve passare infatti del tempo ci sono scrittori che dichiarano di scrivere la notte e poi di rileggere cancellare tutto al mattino ammettiamo pure che ci sia un po' di finzione autocompiaciuta in questa dichiarazione ma è vera se la consideriamo testimonianza della necessaria distanza tra due redazioni specialmente quando si crea un testo rileggersi quindi per valutare l'efficacia e la correttezza per soppesare il lessico si può stare anche un'intera mattinata su una parola modificare le frasi le sequenze ed è anche per questo che la lettura è imprescindibile per ampliare il vocabolario carpire certi segreti e così via insomma il nostro percorso che è partito dalle parole si traduce nella presa di coscienza del valore della parola ovvero parola che non significa chiacchiericcio ma pensiero logos siamo quindi alla conclusione e la conclusione desidero affidarla a una brevissima poesia di Pierluigi Cappello che vuole essere l'ultimo passaggio e anche il nostro congedo un foglio questo foglio battuto per tre quarti dalla luce nella sua luce cresca l'incerto zampettio delle parole che vuole